Siamo con Frioli, giocatore del Ligolz Aprilia in una partita davvero rocambolesca, è stata una gara che praticamente non ha avuto un padrone, voi avete giocato un primo tempo di grande qualità, di grande sostanza in fiducia dopo il successo roboante ottenuto sul campo della capolista però nel secondo tempo cos'è successo? Come mai questo calo? No, allora, sapevamo che era una squadra difficile, hanno tanta corsa, al primo tempo siamo stati abbastanza cattivi, feroci su ogni palla e abbiamo giocato al nostro ritmo e è andata bene nel secondo tempo abbiamo abbassato un po' la pressione e loro sono usciti un po' fuori, poi portare loro oggi a parato di tutto e quando è così diventa un po' difficile perché poi capiscono gli episodi, che la partita cambia, loro prendono fiducia, tu cominci un po' a non avere paura però cominci ad entrare in crisi perché tu c'hai tutto da perdere però l'importante è che siamo stati duri fino alla fine e già la siamo portata a casa. A questo punto ovviamente con questo successo continuate la vostra diciamo cavalcata nei vertici della classifica secondo te dov'è che ancora dovete migliorare per arrivare diciamo a quel traguardo che a questo punto non possiamo più nasconderci è quello di vincere il campionato? Anzitutto dobbiamo chiudere prima le partite e stare in partita con la testa fino all'ultimo perché le qualità non ci mancano la rosa è fatta da grandi ragazzi che si allenano tutti i giorni con grande voglia e si impegnano con grande voglia il problema è che la dobbiamo chiudere le partite finché non le chiudi in questo sport è sempre difficile poi portatela a casa perché basta come ho detto un episodio o una qualsiasi cosa che la partita può cambiare Siamo con Fonte Maggi che davvero ancora una volta così come in tutta la stagione è stato davvero un grande protagonista di questa partita tantissime parate da parte tua soprattutto nel primo tempo dove hai tenuto in piedi la tua squadra e le hai dato la possibilità di vincere questa partita a conti fatti insomma se arrivava quanto meno un pari non sarebbe stato ingiusto qual è la tua visione? La mia visione è che comunque abbiamo giocato bene una partita di episodi il primo tempo nettamente superiori loro il secondo tempo sono calati ce la siamo giocata sugli episodi il calcio a cinque è un sport di situazione quindi le situazioni cambiano tanti falli partita maschiatura a quattro minuti alla fine eravamo un vantaggio l'esperienza esce fuori giustamente la nostra squadra è giovane però abbiamo dimostrato che a quattro minuti alla fine vincevamo con una squadra candidata al titolo e quindi non ne lasciamo a nessuno Prova a ribaltarti la domanda che ho fatto ovviamente al tuo collega Frioli a cui ho imputato un secondo tempo piuttosto sotto dono voi invece non avete avuto l'impatto giusto sulla partita soprattutto i primi 5-10 minuti non eravate sufficientemente concentrati per quello che si è visto nel secondo tempo la differenza è stata abissale da cosa dipende secondo te? In esperienza tanti giovani noi abbiamo una rosa molto giovane io sono quello che alza la media perché penso che sono il più vecchio di tutta Italia e comunque i ragazzi sono giovani sono molto bravi sono giocatori di qualità e la differenza la fanno in campo il campo è stretto il nostro è largo e al chiuso noi giochiamo all'aperto tanti anni di calcio a 5 loro pochi noi eccolo qui gli episodi contano grazie a tutti